Da lunedì 17 settembre parte l'assistenza specialistica anche nelle scuole superiori, dopo che lo stesso servizio era stato assicurato fin dal primo giorno di lezioni nelle scuole materne, elementari e medie. Si completa così il quadro delle assistenze nelle scuole per alunni e studenti disabili, che fa di Ebole un comune sensibile in materia. Un risultato reso possibile da un paziente, lavoro degli assessori Lamonica per l'istruzione e Busillo per le politiche sociali, con il supporto prezioso del nostro disability manager generoso di Benedetto, sottolinea il sindaco Massimo Cariello. Scuole strutturalmente sicure ed assistenza per ogni forma di fragilità sono da sempre priorità di questa amministrazione. Ed oggi Ebole si presenta come un modello di riferimento per altri comuni. In queste ore si stanno completando le procedure di richiesta da parte di studenti e famiglie. Da lunedì si parte.